Buonasera a tutti, con questo video vorrei spiegarvi come fare a firmare automaticamente le email che inviate. Ve lo faccio vedere sul mio programma che uso abitualmente ed è Thunderbird. Voi ovviamente potete fare le stesse modifiche sul vostro programma o direttamente su web. Allora apro il mio programma, riposta elettronica, eccolo, vado sull'account di posta su cui voglio mettere la firma, qui ce ne ho parecchie, scegliamo mromigmail.com. Allora, mi si apre questa finestra, vado a cliccare su visualise impostazioni per questo account e qui sopra troverò accanto all'indirizzo di posta elettronica, anche questo, anche lo spazio per mettere il nome e il cognome, molto semplicemente. Altra possibilità è quella di mettere la firma, un testo a piacere che apparirà in calce ad ogni testo pubblicato sull'email. In questa maniera, mettendo il nome e cognome qua e il testo qua, succederà che quando inviate un'email, accanto al vostro indirizzo di posta elettronica, sulla sinistra apparirà anche il nome e cognome. In fondo al testo pubblicato ci sarà questa firma uguale per tutte le email che verranno inviate. Niente, non c'è altro da dire, basta poi premere ok e tutto sarà a posto. Grazie per l'attenzione e buonasera a tutti.